benvenuti nel canale del blades siamo al nazionale di parma siamo qui con che hai fatto? ho fatto 9-1 in Svizzera e poi ho chiuso il top 32 perso da Brandish Trickster vediamo il main tre droll tre asci e due ogre due ogre le ho messe perchè non mi piaceva Bell e Bell l'ho messa di side ok ti basta Entrap? 3 Licorice, 3 Candina e una Giglio Campana va bene, normale carte più forti del gioco escape, 2 design, 3 gauge, 3 che fanno token, 3 terraformi, una common perchè viene su spesso non hai giocato lo spacchino dei mostri? Afterburner ce l'ho messo di side perchè di main non c'avevo spesso ok va bene trappole, 3 reincarnation e due event di main due event di main quindi eri in second o first? andavo di second però a volte perché manca di first ma la vedevo sempre quando andavo second va bene, onesto abbiamo l'extra i token i token i token che sono più grandi dei token soliti molto belli Willing Spider si Buzz Nightmare ok i soliti tutti quanti Rokagari Sizuku Impartimento Brandish Mancea e Proxy Proxy ho deciso di metterlo perchè molte volte mi ritrovavo a non avere un altro nome diverso per la bombo Nightmare e Proxy è stata l'unica soluzione e come mai non lo Space Insulator? quello che punta l'altro link che punta su e giù? non sapevo che esisteva ok Trisbaena Borrelo e Firewall ho giocato Saruia Saruia Trisbaena per i turni o per altre? per togliermi le trappole le magie ok side 2 twin richiamato dalla tomba 2 my control 2 short drive e after pair ok side in 2x gioco sempre tutto in 2x perchè 3x a vederle è un po' inutile è inutile non mi piace avere le capi in 3x ok 2 bell 2 sfere di run due palle sono palle queste qua non le ho mai usate perchè non ne ho mai avuto la necessità e questi qua sono molto più forti in permanence perchè in permanence costa e questi qua fanno la stessa cosa e non si beccano life stage esatto le bell contro cosa le sei davi? le belle le mettevo di solito contro Spiral o sennò contro invoked che provocava l'invocation che comunque è sempre forte ok qualche considerazione sul mazzo? qualcosa che cambieresti? no non c'è niente di che cambieresti vuoi ringraziare qualcuno? si, ringrazio chi mi ha prestato il match quindi ringrazio Antonio mi ringrazio Fabio per avermela venduta a meno di quello che stava e ringrazio Sanguanini per aver impostato questa carta qui va bene importantissima e niente grazie per tu fai schifo? esatto ci vediamo al prossimo video sempre sul canale